Buonasera e bentrovati su Reteconomy, questa è Auto 3.0. Vi raccontiamo l'automobile sotto tantissimi punti di vista. Bentrovato Roberto Boccafogno e bentrovato anche a Pierluigi Bonoro, opinionista del giornale, promotore di Forum Automotive. Si è concluso da poco il Salone di Ginevra, uno dei saloni più importanti a livello internazionale, il Salone Neutrale che si ripete ogni anno e il tema di questa puntata sarà proprio il Salone in generale, non solo italiani ma naturalmente anche sul territorio europeo. Sono ancora una vetrina importante per il mondo dell'automobile?